Saranno in mostra ad Apice in provincia di Benevento dall'8 al 17 agosto presso il centro sociale i quadri realizzati dal pittore e restauratore Tonino Dionizio. Secondo la tecnica grafica ad inchiostro è concretizzata su tela con una semplice penna BIC da 50 centesimi. Quadri quasi tutti incentrati sull'antico borgo normano di Apice, luogo della memoria, e in cerca di un futuro. Tonino invece ricorda un po' per formazione stampo i bottegai di un tempo, abili restauratori sospesi sulle impalcature, intenti ad affrescare le navate di antiche chiese di provincia, spesso dall'abbattuta pronta e la singolare simpatia. Questi quadri vengono, diciamo, il soggetto parla del centro storico di Apice e niente, ho voluto proprio documentare questi paesaggi, questi scorci, proprio per dare un senso di verismo, diciamo, perché ormai dimenticato dal popolo. Ho iniziato, diciamo, con il colore ad olio, però la mia espressione, la mia esperienza mi ha portato a fare altre cose, cioè sulla grafica, perché la grafica per me è una pittura abbastanza, diciamo, particolare e abbastanza difficile. E niente, e poi con la penna BIC ho iniziato su tele, nemmeno su cartoncino, perché il cartoncino oramai è una cosa facile.